Ecco le immagini shock di un lupo che azzanna una cagnolina, il padrone se ne accorge in tempo, riesce a salvarlo, operata d'urgenza, adesso è a casa. Quattro persone arrestate per spaccio di droga dai carabinieri di Urbino, tra i consumatori non solo giovani ma anche adulti, con una buona posizione sociale. Non è previsto alcun Astra Day nei centri vaccinali della provincia di Pesaro. A Marotta invece da lunedì prossimo verrà attivato un centro per vaccini gestito dai medici di medicina generale. Dopo sette mesi di chiusura forzata riaprono le palestre in tutta Italia. Bene insomma, da che si può fare un po' di moto, una certa emozione come tornare a casa. Cosa c'è sotto piazza 20 settembre? A far luce sul mistero ci penserà un sofisticato georadar che avrà il compito di ispezionare il sottosuolo per elaborare un progetto scientifico insieme al centro studi vitruviano. Tra poco in diretta su Fano TV, primo cittadino con il sindaco di Terre Roveresche, Antonio Sebastianetti. Occhio alla notizia, in studio, Marco Ferri. Un cordiale saluto cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla notizia. Allora, in primo piano vi mostriamo le immagini, le immagini impressionanti che ci arrivano da Monbaroccio, siamo nella provincia di Pesor Rubino, dove un lupo ha rincorso e ha zannato una cagnolina. Mentre la stava portando via il padrone ha iniziato ad urlare salvando così la sua amica quattro zampe. Vediamo. Un pomeriggio tranquillo si è trasformato in una giornata da dimenticare per questa cagnolina e i suoi padroni. Siamo in un terreno privato a Villa Grande di Monbaroccio, dove ieri intorno alle 16 Margot, una giacarassela di 7 anni e mezzo, girava libera nelle vicinanze di questo laghetto, quando a un certo punto inizia a correre, sempre più forte. Poco dopo, come si vede da queste immagini, si capisce il motivo. Stava arrivando un lupo pronto ad azzannarla. Inizia la fuga, l'animale selvatico la spinge in acqua per fermare la sua corsa, poi si azzuffano. Nonostante i lamenti del cane, il lupo non demorde e lo prende. Per fortuna, dopo qualche istante, il proprietario se ne accorge e inizia a urlare. Via! 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 Vieni qui! Via! Vieni via! Vieni via! Vieni via! Le grida hanno spaventato il lupo che ha lasciato la sua preda e si è dileguato immediati i soccorsi per Margot. Ma una delle domande che in diversi si stanno facendo è, e se al posto del cane ci fosse stato un bambino? Quando sei lì l'adrenalina non ti fa avere paura, reagisci come ti viene al momento. Quello che ho fatto l'ho realizzato dopo. Intanto richiedo come sta la cagnolina. Sì, la cagnolina adesso è stata operata ieri sera, ho parlato adesso con il chirurgo. Le condizioni sono stabili. Io pensavo che era più grave. Invece, speriamo bene, ha avuto dei distaccamenti dei tessuti, uno schiacciamento del polmone. E adesso aspettiamo l'esito definitivo stasera, quando li richiameremo, andiamo a controllare. Dove l'ha afferrata? L'ha presa praticamente in bocca da sopra, riusciva la testa da davanti e le gambe dietro, come una gatta che prende i suoi gattini, ma forse è stata la sua fortuna perché l'avesse presa per la testa o per un altro punto l'avrebbe già uccisa. Diciamo che per me per ora è miracolata se è ancora viva. Lei qua ha installato le telecamere di videosorveglianza, in realtà non per i lupi, però li ha già visti più volte? Sì, sì, i lupi si vedono, le impronte, ma non solo qui. Qui nella zona ormai i lupi dominano, non abbiamo più un capriolo, non abbiamo più un cinghiale, non abbiamo più un lepre. Io nel mio lago ho dei pesci che li ho già lasciati, li do da mangiare, li accudisco. Ho dovuto trovare uno stratagemma per salvarli dai cormorani, quindi telecamere di suasori, pupazzi ad aria, quelli dei festoni, telecamere con prese wireless. Stiamo difendendo di tutto, meno i poveri animali indiferiti, tutti i produttori. E a lanciare un appello alle istituzioni della regione è il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci. Le aggressioni continuano ad essere costanti, nei caprioli, al pollame, alle pecore, quindi diventa un danno anche per gli allevatori del territorio. Io chiedo naturalmente la collaborazione dei cittadini per poter tenere quanto più possibile alcun insaglio, anche che qui siamo in una situazione privata, i propri animali domestici, in modo tale che siano più tutelati. Però quello che è la realtà dei fatti sta nella legge della 157 del 92, una legge che è stata fatta tanti anni fa e sono cambiate le logistiche, sono cambiate le posizioni di questi animali strategiche che vanno nell'ottica di sia ricercare il cibo, sia di riprocrearsi. Quindi andrebbe rivisto, andrebbe forse migliorato un censimento di questi animali per capire come si distribuiscono sul territorio, perché a fronte di una tutela dell'animale che deve essere sempre salvaguardato, rischiamo di rovinare altri equilibri. E quindi mi rivolgo alle istituzioni regionali che si facciano poi promotori con il Governo nazionale nel merito di questa osservazione, di questa legge, di eventuali modifiche, se si possono attuare. E poco fa i padroni della cagnolina ci hanno inviato queste fotografie dove si vede appunto Margot che è medicata con la fascia e che comunque è tornata a casa. Adesso la vedete mentre è in piedi, insomma cammina. E quindi dovrà rimettersi. Sull'argomento è intervenuto anche Tommaso Di Sante, Presidente Provinciale di Coldiretti. Sono saltati gli equilibri, ha commentato Di Sante. Non si può fare finta di niente, non si tratta di perdere qualche capo per gli allevatori, ma della loro incolumità. Siamo preoccupati, ha concluso il Presidente, perché le incursioni dei lupi sono sempre più frequenti, come anche quelle dei cinghiali nei campi. La cronaca, quattro persone sono state arrestate per spaccio di droga ad Urbino e Tavoleto, numerose le persone segnalate come consumatori. I carabinieri della Compagnia di Urbino, con l'ausilio dei colleghi di Pesaro e Riccione, hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di quattro misure cautelari emesse dal GIP Vito Savino su richiesta della Procura della Repubblica. I destinatari sono tre persone di nazionalità magrebina e un'albanese di età compresa tra i 30 e i 40 anni. Gli stranieri erano stati indagati dai carabinieri del nucleo operativo, poiché ritenuti responsabili a vario titolo del traffico e dello spaccio di ascisce e cocaina nel periodo compreso tra gennaio e luglio dello scorso anno, a Urbino, nel comune di Tavoleto e in quelli limitrofi. Ipotesi investigative pienamente accolte dal giudice per le indagini preliminari che ha emesso i provvedimenti. Uno che riguarda gli arresti domiciliari, due di viete di dimora nella provincia di Pesero Urbino e un obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Le indagini sono state coordinate dal PM Irene Lilliu e il lavoro è stato piuttosto articolato, come ha spiegato oggi il comandante della compagnia Renato Puglisi. Infatti si è svolto su più fronti intercettazioni telefoniche, tracciamento degli spostamenti, visione delle immagini registrate dalle telecamere, ma anche servizi di base come controlli e pedinamenti. Nel corso dell'attività, uno dei soggetti destinatari delle misure era già stato arrestato nella flagranza di reato nel mese di luglio, mentre di ritorno dalla Lombardia trasportava un chilo di asci scimpaniti da 100 grammi. La droga era occultata sotto il sedile posteriore dell'auto di proprietà della fidanzata. Un altro uomo è stato raggiunto dalla misura cautelare mentre si trovava già nel carcere di Ferrara, dovendo scontare una precedente condanna. Un terzo, invece, era in custodia cautelare nella propria abitazione poiché tratto in arresto il 9 gennaio scorso, sempre dai militari di Urbino, per la detenzione di 270 grammi di cocaina in concorso con un altro suo connazionale. Tutte le persone coinvolte non avevano un'occupazione, di conseguenza vivevano soltanto del profitto dell'attività illecita. Inoltre, l'operazione ha permesso di identificare e segnalare numerosi consumatori di sostanze stupefacenti. Si tratta sia di giovani, anche studenti, che di adulti con una certa posizione sociale. Sono state così documentate centinaia di cessioni di droga. E questa mattina a Ancona c'è stata la prima udienza del procedimento BIS per la strage della discoteca Lanterna Azzurra a Corinaldo. L'8 dicembre del 2018 morirono nella calca 6 persone, altre 197 rimasero ferite. Su 19 imputati per reati che vanno dalla cooperazione in omicidio colposo, lesioni anche gravissime, falso e disastro colposo, due vanno verso il patteggiamento, cinque potrebbero chiedere rito abbreviato, mentre gli altri verso quello ordinario in caso di rinvio a giudizio. Le richieste non sono state formalizzate, l'udienza preliminare è stata aggiornata al prossimo 30 settembre alle ore 10. E tra i chiamati in causa c'è anche il sindaco di Corinaldo, Matteo Principi, come componente della commissione di vigilanza che chiede l'autorizzazione per i pubblici spettacoli. Mi sembrava giusto essere presente all'udienza, ha dichiarato il primo cittadino, per trasmettere la volontà di raggiungere la verità e la massima collaborazione doverosa, costi quello che costi. Nelle Marche, nelle ultime 24 ore, sono morte tre persone a causa del coronavirus. Nessuna delle vittime era residente in provincia di Pesaro e Urbino. Invece i nuovi positivi sono 58, di cui 21 nell'Anconetano. Nelle terapie non intensive ci sono sette ricoveri in meno rispetto a ieri, mentre rimane invariato il numero dei pazienti negli altri reparti Covid. Intanto prosegue la campagna vaccinale, iniziata anche per chi ha più di 40 anni. Oggi abbiamo fatto il punto con Carlotti Liverani del Dipartimento Asur. Al momento hanno spiegato, non è previsto alcun Astra Day. Con 600 somministrazioni al giorno si affanno che a Urbino e quasi mille nel comune di Pesaro prosegue senza sosta al piano vaccinale nell'area Vassa 1. A fare un bilancio sulle coperture il dottor Augusto Liverani, direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Le coperture sono veramente molto buone, abbiamo raggiunto dei risultati che non speravamo di raggiungere. Abbiamo a livello degli over 80 una copertura con una singola dose dell'83% che raggiunge anche picchi dell'86% nella fascia di età 80-84 anni. Molto buona è anche la copertura negli over 70 con una singola dose che è dell'82% e negli over 60 del 77% con una singola dose. Sono aperti i posti per la prenotazione degli over 40 che andranno avanti per tutta l'estate e abbiamo aperto circa 120.000 posti a livello regionale. Novità anche per i punti vaccinali, da ultimo lo spostamento a Urbino, dal Palazzetto dello Sport al Bocciodromo, che grazie ad ampi spazi dove operano quattro medici e altrettanti amministrativi è possibile aumentare il numero delle vaccinazioni con una potenzialità di mille somministrazioni al giorno. A Fano invece si prosegue al Codma. È pronto ad essere utilizzato anche il primo piano quando vaccineremo numeri elevati di soggetti senza problematiche, quarantenni, trentenni e quant'altro. Rimane attivo il risto a Pesaro anche se è pronto a poche centenelle di metri un punto parallelo presso la Team System. Anche qui nel momento in cui dovesse aumentare i volumi è già tutto predisposto per partire con questo secondo punto vaccinale. Inoltre, come spiega Eugenio Carlotti, direttore del Dipartimento di Prevenzione, si stanno organizzando dei punti vaccinali di prossimità, come a Gradara, Marotta, San Costanzo, Macerata Feltra e a Sasso Corvaro Auditore. Questi punti che ovviamente non opereranno a tempo pieno come i PVP contribuiranno ad aumentare la popolazione dei soggetti vaccinati. Si parla anche di un eventuale Astra Day. Me lo conferma? Qual è la situazione delle dosi a disposizione? Al momento l'Astra Day non è in cantiere. Se ne parla tra gli addetti ai lavori. Nulla esclude che quando avremo disponibilità di dosi a sufficienza e questo quindi non penalizzerà i richiami di chi è già stato vaccinato, si possa pensare a un Astra Day, quindi a una vaccinazione a richiesta di massa a prescindere dalle fasce d'età, ma al momento non è in cantiere. E come avete sentito nel servizio, Marotta avrà il suo punto vaccinale per gli over 60 dell'unico prossimo. Partirà un presidio di prossimità gestito dai medici di medicina generale. Partirà in via sperimentale dal lunedì 31 maggio. Il punto vaccinale di prossimità gestito dai medici di medicina generale nella sala Ciriachi adiacente al bocciodromo comunale in via l'Europa Marotta. Lo stesso sito aveva già ospitato nello scorso gennaio lo screening di massa che ha visto l'afflusso di quasi 5.000 persone. Le date previste sono quelle di lunedì 31 maggio, venerdì 4, lunedì 7, martedì 8 e venerdì 11 giugno. In queste cinque giornate il centro sarà aperto di pomeriggio dalle 15 alle 18. Al momento, spiega il sindaco Nicola Barbieri, sono 13 medici di famiglia che guidati dal coordinatore dell'equip territoriale Antonio Fioravanti hanno dato la loro disponibilità. Nella prima fase potranno prenotarsi esclusivamente le persone di età superiore a 60 anni residenti nei comuni del distretto sanitario di Fano, cui ancora non è stata somministrata la prima dose. Nell'organizzazione contribuiranno i volontari della Croce Rossa che seguiranno la parte amministrativa e i volontari della protezione civile Fadibruno che invece gestiranno le prenotazioni. Prenotazioni che potranno già essere effettuate chiamando questo numero di telefono oppure recandosi negli stessi giorni, orari, al punto informativo allestito dalla protezione civile nel parcheggio del bocciodromo. Nelle prime 5 giornate sono previste circa 60 vaccinazioni al giorno ad eccezione di lunedì 31 maggio in cui potranno essere sensibilmente minori per mettere a regime la macchina organizzativa. Chi farà la prima dose in quelle giornate poi potrà effettuare il richiamo sempre alla sala ciriachi nella data che gli verrà fornita. Come amministrazione, ha concluso il sindaco, abbiamo deciso di dare il nostro contributo al potenziamento della campagna vaccinale mettendo a disposizione spazi e attrezzature. Questa prima fase dedicata agli over 60 ci servirà per rodare la macchina organizzativa con l'obiettivo, compatibilmente con la disponibilità di dosi e personale di aprire il punto vaccinale anche ad altre categorie. Auspichiamo in queste giornate una buona partecipazione da parte di tutte quelle persone over 60 che ancora non hanno fatto il vaccino consapevoli che le vaccinazioni sono l'unico strumento che abbiamo per combattere il virus e tornare alla normalità. Cambio al vertice della Prefettura di Pesaro e Urbino. Dopo due anni di servizio, mercoledì prossimo, Vittorio Lapolla lascerà l'incarico per trasferirsi a Roma al Ministero dell'Interno. Subentrerà Tommaso Ricciardi, nato a Caserte e proveniente dalla Prefettura di Trapani. In una lunga lettera oggi Lapolla ha fatto un bilancio dell'attività svolta e ringraziato cittadini, associazioni, sanitari e autorità. Un grande professionista e servitore dello Stato, ha commentato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, non è stato un anno semplice ma ha saputo gestire in maniera impeccabile questo periodo difficile di pandemia. Dopo sette mesi di chiusura forzata, tutte le palestre d'Italia oggi hanno potuto riaprire i battenti. Angelica Panzieri ha fatto un giro tra le palestre di Pesaro. È arrivato il grande giorno anche per le palestre. Finalmente si riparte qui alla Big Gym di Pesaro, una delle più grandi del centro Italia. Il primo cliente è arrivato questa mattina alle 6. Attrezzi sanificati e lucidi, spogliatoi pronti per l'uso, anche se fare la doccia sarà vietato. E l'emozione del primo giorno in palestra, oggi in tanti sono tornati a sudare dopo sette lunghi mesi di pausa. Chiuse dall'ottobre scorso, le palestre per via del decreto riaperture hanno potuto riaprire i battenti soltanto oggi. Difficile contenere l'euforia per i clienti, alle prese con gli attrezzi già dalle prime ore di questa mattina. Non ne potevo più, mi allenavo nel garage, un po' al campo sportivo, però la palestra è diversa, ci sono le macchine, poi comunque c'è un po' di comunità, non stanno sempre da sola. Benissimo, è come tornare a casa. Dopo sette mesi, lei era una cliente storica? Abbastanza, dai, abbastanza, sì, sì, sì. Quindi dai, adesso si riparte, speriamo. Gli spazi e le attività all'interno saranno organizzati in modo da assicurare le distanze di almeno due metri tra le persone, come prevede lo stesso decreto. Un rientro, quello di oggi, partito meglio del previsto, come raccontano gli stessi titolari delle palestre. Questa palestra, tra l'altro, si è dotata anche di sanificatori per i politici. Abbiamo comprate sei che ho messo tutte nelle varie sale così, che depurano l'aria, germi, batteri, così. Quando arrivano dobbiamo prendergli la temperatura, poi ci hanno i vari gel, anche se di norma a luglio-agosto c'è un calo, ma io penso che andranno oltre quest'anno perché la voglia è molta. Darete la possibilità di recuperare chi aveva già gli abbonamenti attivi? Abbiamo già iniziato. Diciamo che è andata abbastanza bene, anche se la gente adesso ha bisogno un pochino di tempo per riprendere. Il fatto è che siamo stati chiusi per tanto tempo, insomma, invogli ancora la gente a venire per anche in mesi un pochino più caldi. I vecchi clienti darete la possibilità di recuperare gli abbonamenti che avevano già attivato? Ovviamente è compatibile con la nostra situazione perché dopo sette mesi di chiusura, insomma, anche noi siamo arrivati alla canna del gas, come si dice. Per cui, insomma, noi vi veniamo incontro, però anche loro devono venirci incontro, capire che, insomma, se stiamo altri mesi aperti senza incassare una lira, per noi è veramente complicato. Adrenalina in campo anche per gli appassionati degli sport da combattimento, come il kickboxing. Manteniamo degli spazi, come vedete la sala è molto grande, quindi noi abbiamo già predisposto delle zone colorate, differenti, dove i ragazzi si possono allenare da soli e per gli agonisti, quindi per chi ha fatto un certificato agonistico e iscritto a una federazione ufficiale che fa gare, chiaramente c'è la possibilità di fare del contatto fisico, chiaramente scrivendo le copie, nominativi e tutto comunque molto rigido. Che cosa si trova sotto piazza 20 Settembre? Questa mattina sono partite le ispezioni con un sofisticato georadar per indagare appunto che cosa c'è nel sottosuolo. Sono iniziate questa mattina le prospezioni georadar all'interno di piazza 20 Settembre in seguito alla richiesta del comune di Fano al centro studi vitruviani. Questa operazione ha come finalità quella di elaborare un progetto scientifico, ovvero indagare e capire che cosa ci sia nel sottosuolo, nel fulcro della città. Durante l'arco della giornata sono stati ispezionati tutti i punti grazie ad un sofisticato georadar. Per far questo ci siamo appoggiati e abbiamo attivato una collaborazione con l'Istituto di Studio del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il dottor Salvatore Piro. Quindi siamo, si può dire, ai massimi livelli in Italia per quanto riguarda le prospezioni geofisiche di tipo archeologico e anche in ambito urbano. Oggi abbiamo appunto iniziato queste prospezioni georadar e avremo quindi un'immagine di quello che si trova nel sottosuolo di piazza 20 Settembre, un'immagine di alcuni metri, andremo a una profondità di almeno 5 metri per vedere appunto che cosa si nasconde al di sotto dell'astricato. Sappiamo già che ci saranno dei cunicoli, delle gallerie, però una mappa precisa di queste gallerie non è stata mai realizzata. Ovviamente il georadar non ci dà indicazioni di tipo cronologico, quindi non potremo capire a che periodo risalgano le strutture che troveremo, che il georadar ci indicherà, ma sicuramente si tratta di un punto di partenza importantissimo per poi iniziare delle indagini future. Oggi faremo le prospezioni sul campo, mentre nel prossimo mese ci saranno le elaborazioni, fino ad arrivare a una ricostruzione 3D del sottosuolo. Ovviamente un'immagine che non sarà la ricostruzione 3D definitiva, una ricostruzione storica al 100% precisa, è quello che c'è, ma un punto di partenza per poi effettuare le future ricerche. È una di quelle zone non esplorate, ma che sicuramente ci porteranno delle sorprese importanti, perché qui siamo proprio nel cuore della vecchia città romana, il foro era poco lontano, qui vicino, c'erano sicuramente edifici in questa zona. Diventerà interessante per capire anche cosa è avvenuto dopo, anche nel periodo medievale e quindi sappiamo che ci sono cunicoli, ci sono degli spazi, quindi diventa importante per avere un quadro, una fotografia di quella che era la nostra realtà. Tra un mese avremo i primi risultati, questo è il primo step ovviamente, in base a quelle che saranno le risultanze, poi ci saranno altre iniziative per valorizzare e perché no, magari se ci sono cose importanti, anche possibilità di visitarle, magari un domani possono diventare anche un'attrazione importante per noi e per chi viene nella nostra città. E dunque vedremo. Da domani fino a giovedì, compreso, resterà chiuso il parcheggio di via del Risorgimento a Fano, la motivazione legata ai lavori di sistemazione della pavimentazione che versa in pessime condizioni. Nei prossimi mesi invece partirà il progetto complessivo di riqualificazione. Invece a Sassogna di Fano è stata inaugurata una via intitolata Vincenzo Cecchetelli, cantante lirico e insegnante affezionato alla sua città d'origine. Nato a Fano, Cecchetelli ha calcato i più importanti teatri d'Italia e si è cimentato in numerose interpretazioni, sia come baritono che come tenore. In città ha fondato il gruppo Amici della Musica e a lui si deve la nascita del coro Agostini, ancora oggi stabile al teatro della fortuna. Restate sintonizzati, restate qui sul canale 17 di Fano TV perché tra poco, dopo la pubblicità e le previsioni del tempo, torneremo in diretta con Primo Cittadino. L'ospite di questa sera, come vedete dal cartello, sarà il sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli. Grazie per essere stati con noi, l'informazione torna domani mattina alle 7 con Occhio ai giornali. Arrivederci.